ecco è uscito il secondo capitano si saluta con il primo capitano un abbraccio che sa di promessa di collaborazione nel tutto l'arco della giornata un riconoscimento che mi aiuta davvero dice che stanno arrivando tre capo dieci eccoli l'uno a fianco all'altro Andrea Fortuni Andrea Barcelliani Daniele Barcelliani si salutano e si avvicinano sicuramente non sono molte emozioni al loro interno verso le paelle che già gli aspettano saluta Andrea Fortuni eccolo di corsa verso Andrea ma anche già non sentite che il campanore aggiunge la sua voce anche all'applauso quanto è pronto anche il leggero di San Giorgio intereterminare ed ecco le apparire quest'altro è di San Giorgio San Giorgio San Giorgio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti San Giorgio 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 e poi in questo momento Andrea Marchigiani si inginocchia quasi sulla barella per salutare per salutare il promettore le tre grosse che nella circostanza sono opera importante della bottega Rambini a turno l'artisanato e i cubini si offrono per questa salutano la forma un saluto ai campanari un saluto alla macchina e ai campanari di nuovo una breve successione di la Cattolini e questa è stata la strada ma il giorno viene fermato un atto di sconfondria tanto che si fa su strada e il mio caro prezzo ai ceneritori Grazie, 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 grazie.